bene ragazzi buongiorno siamo qui oggi con un nuovo video quello che vedete qui davanti è uno dei diversi reperti archeologici che ho preparato per voi e che vi mostrerò oggi e nei giorni successivi a questo preparatevi appunto perché perché ho trovato delle chicche interessanti ed è giusto che io le condivida con voi anche per farvi scendere qualche lacrimuccia partiamo oggi con questo dépliant questa brochure risalente al 2001 come vedete si sta parlando della leo vince era già leo vince nel 2001 per i più per i più giovani per i più giovani è sempre stata leo vince ma per i più vecchi come ne è una volta era leo vinci andiamo subito a vedere di cosa parla questo incredibile reperto leo vince è un'azienda specializzata nello sviluppo e nella realizzazione di impianti di scarico ad altissime prestazioni per ciclomotori scooter e moto è un vero e proprio atelier della marmitta con un ciclo di produzione completo dove dove è più moderne qua hanno sbagliato c'è un errore di ortografia probabilmente era dove le più moderne tecnologie si fondano con l'accuratezza delle lavorazioni artigianali per ottenere la miglior resa prestazionale leo vince svolge quotidianamente un approfondito lavoro di ricerca e sperimentazione con l'obiettivo di realizzare serie limitate di pezzi con caratteristica al top destinate alle competizioni e dagli appassionati più esigenti questo era un bellissimo entity e vedete infatti c'è lo scritto leo vinci perché questo è veramente vecchio bellissimo questo lo sognavo quando avevo 14 anni fa di stavo per comprarmi un entity o un energy prima serie poi per fortuna ho comprato lo zip i prodotti leo vince scut non contrassegnati dal marchio ipas non sono conformi al codice della strada per prestazioni e rumorosità pertanto possono essere utilizzati solo in competizioni sportive o all'interno di circuiti chiusi andiamo ad aprirlo ci presentava le varie marmitte un attimo perché con una mano solo non è facile ok allora partiamo partiamo subito anzi partiamo dalle marmitte allora la prima la mitica sp3 guardate qua ci sono tutte le marmitte con la panoramica ok la linea sp3 può essere considerata l'evergreen della linea leo vince scut dal 1996 sp3 unisce a prestazioni ottimizzate un livello sonoro simile a quello degli impianti originali tecnicamente il corpo espansione è molto compatto è realizzato artigianalmente in acciaio con una struttura a doppio settore nella parte posteriore integra un dispositivo silenziante a tubi e paratie coadiuvato da un rivestimento interno in lana ceramica ne risulta una sonorità del tutto cittadina abbinata a un sensibile incremento delle prestazioni nel totale rispetto delle normative CE questo era un bellissimo quartz beh in effetti sp3 gran marmitte delle simili originali confermo passiamo sotto alla touring che tra l'altro vedrete montata sul mio zip quanto prima l'ho comprata diversi mesi fa ma non ho mai avuto tempo di installarla e di farvi vedere il montaggio e farvi sentire il sound ma con calma forse entro fine luglio ce la faremo touring la linea touring è una delle più complete esistenti nel parolama scooteristico destinata a modelli comprese tra 50 e 400 cc due e quattro tempi l'impostazione tecnica generale è caratterizzata da un eccezionale mix tra prestazioni e silenziosità il corpo silenziante completo di collettore è realizzato in acciaio con saldature mig e definito con verniciatura elettrostatica resistente alle alte temperature internamente presenta una struttura a espansione conica incorporante il silenziatore calibrata su misura per ogni motore per migliorare l'effetto insonorizzante l'interno è rivestito in fibra ceramica questo era un majesty credo 250 400 non ricordo sprinter visto solo una nella mia vita dal vivo probabilmente introvabile si tratta di un prodotto sviluppato specificatamente per esaltare il rendimento dei motori ai bassi e medi regimi così da favorire accelerazioni e importanti incrementi della coppia tecnicamente il prodotto si presenta come un'evoluzione del concetto di espansione che leo vince ha reso perfettamente conforme alle normative del codice stradale la costituzione è internamente manuale il corpo centrale è realizzato in acciaio esternamente è rifinito con verniciatura nera e con un cartel protettivo in materiale plastico il terminale cilindrico è realizzato internamente in acciaio inox questo era un sr prima serie con direi minarelli orizzontali si anche se questo era per piaggio passiamo ma passiamo alla navigator cat che è la più brutta questo non l'ho mai visto dal vivo l'impianto catalizzato navigator cat rappresenta un'evoluzione ragionata ragionata ok ragionata del concetto cono contro cono un progetto specifico che coinvolge forme volumetrie e materiali la struttura interna è realizzata in acciaio inox ed elaborata specificatamente per ogni motore al fine di garantire livelli prestazionali simili ai modelli non catalizzati esternamente il corpo silenziante è realizzato da un cartel in alluminio sul quale sono state inserite diverse feritoie per una migliore dispersione del calore proveniente dal catalizzatore di tipo meccanico questo cos'era un'onda sh secondo modello credo perché il primo era raggi passiamo alla rs handmade montata su un runnerone però sotto ai minarelli orizzontali caratterizzate da un prezzo interessante ma da prestazioni in stile handmade la linea rs unisce la ricerca della top performance con l'ottimizzazione dei processi produttivi artigianali e l'utilizzo di materiali tradizionali di elevata qualità rs offre la tipica architettura della famiglia handmade con espansione cono contro cono di grosse dimensioni parliamone costituita in acciaio con procedimenti manuali e soldata tradizionalmente il terminale utilizza l'alluminio con finiture esterne in mero nero pacco che bene si abbina all'effetto della verniciatura trasparente dell'espansione e infine passiamo al grande cavallo di battaglia la storia dell'ero vince la zx la più elevata presto nazionalità degli scooter 50 cc concesso dai parametri dell'omologazione c'è questa è in sintesi land made zx proprio come uno scarico da pista più più da pista da posta però vabbè insomma richiede un'adeguata messa a punto del veicolo certo rulli a mollettine e getto del massimo consistente nella sostituzione dei rulli e delle molle della trasmissione a me lo ricordavo anche benissimo che vengono forniti da leo vince insieme all'impianto land made zx è composta da un'espansione realizzata in acciaio e con architettura aperta a doppia camera e da un terminale con struttura interna in acciaio inox e rivestimento esterno in carbonio e kevlar le lavorazioni lasciate a vista della verniciatura dalla verniciatura trasparente dell'espansione conferiscono un tocco di grinta e cattiveria sportiva in più questo era un mitico sr secondo modello bellissimo con l'omologazione anche andiamo a vedere adesso qua dietro qui c'è la tabella con l'omologazione dei vari modelli in base allo scooter che avevate vi faccio un passaggio così se ce l'avete ve lo potete leggere vado molto pianino in caso stoppate il video ok e infine parliamo di leggi scut una famiglia in regola caratteristica peculiare della linea di impianti di scarico speciali leo vince scut è il pieno rispetto dei parametri di omologazione c'è nella quasi totalità dei prodotti quasi leo vince dunque pone l'utilizzatore finale in una posizione di assoluta legalità sulle strade di tutta l'europa la rispondenza dell'omologazione all'omologazione c'è infatti consente il libero utilizzo dei componenti aftermarket naturalmente ogni impianto presenta l'apposita marchiatura e per maggiore chiarezza è accompagnato da documentazione specifica relativa ai dati di omologazione mitici fogli lux control il signor come si chiamava durassi mi pare c'era il signor durassi da qualche parte forse non era qua perché durassi è arrivato dopo comunque leggendario tutto questo è il frutto dell'esperienza maturata dai tecnici leo vince nello sviluppo di prodotti speciali omologati questa esperienza ha consentito di affinare la tecnica di progettazione e sviluppo e oggi permette di sfruttare al meglio le possibilità previste dalla normativa c'è una vera e propria sfida tecnica che leo vince ha saputo raccogliere e trasformare in realtà devastante veramente devastante bene ragazzi spero vi sia piaciuto questo piccolo pezzo di storia ci vediamo nei prossimi giorni per i prossimi filmati e le prossime chicche che vi ho preparato per adesso è tutto un saluto alla prossima